Nazionalizzare Alitalia sì, ma il problema è il come. Lega e 5 Stelle hanno un comune obiettivo, ma diverse strade per raggiungerlo. Salvini e i suoi puntano a individuare attraverso un apposito bando un nuovo partner industriale da affiancare allo Stato che manterrà il 51%. I pentastellati invece lavorano a un progetto più articolato. In autunno in Alitalia entrerebbe un soggetto pubblico tipo cassa depositi e prestiti o ferrovie dello Stato. Quindi andrà individuato un partner cui legarsi nei mesi successivi. Intanto da un'inchiesta del Corriere della Sera a proposito di compagnie aeree vengono fuori piccole magagne legate ai supplementi che paghiamo quando facciamo un biglietto, come ad esempio la cifra che va sotto la voce supplementi. Spesso si tratta del carburante che viene consumato dall'aereo. Il dato che balza gli occhi è il fatto che questa voce arriva in alcuni casi a coprire il 71% del biglietto. Un esempio. Milano e New York costo 342 euro, di questi 244 sono appunto di supplementi. Pensate che dal gennaio del 2016 all'agosto del 2018, in media, il costo del supplemento carburante è aumentato del 28%. Un aumento legato al prezzo del petrolio salito negli ultimi mesi? Mica tanto, visto che in realtà il carburante che viene utilizzato oggi le compagnie lo hanno acquistato un anno e mezzo fa e il prezzo era inferiore del 40%.